Eccoci qua, all'arrivo di questa durissima gara, sesti assoluti, quarti di Enne, veramente contenti di essere qua, è stata dura perché comunque abbiamo avuto diversi problemi, ma guidando tranquilli siamo arrivati alla fine e abbiamo raggiunto questo risultato. Un saluto a tutti, ciao! Ciao a tutti e grazie di tutto!